Eccoci qua, siamo di nuovo in diretta, abbiamo in collegamento Francesco Poiree, dovrebbe arrivare fra qualche secondo il video, soltanto qualche istante di attesa. Vediamo se arriva il video, ed ecco Francesco Poiree anche in video. Buonasera Francesco, allora io ricordo ai nostri ascoltatori che siamo in collegamento con Milano e Francesco Poiree, il segretario dell'associazione Enzo Tortora Radicali Milano, e gli auguro buonasera e benvenuto su TV Radicale, anzi bentornato su TV Radicale, Francesco. Grazie, buonasera a tutti. Cosa ci racconti di Bello da Milano? Noi abbiamo due argomenti importanti col quale divideremo questi 30 minuti, anche se un paio di minuti si sono erosi con i problemi tecnici, ma li toglieremo a qui Calabria perché poi dopo non devo ripristinare altri collegamenti, continuo io in continuità la diretta senza stacchi e quindi ci possiamo allargare di qualche minuto. I due argomenti che vogliamo affrontare con te stasera sono, prima di tutto le firme false, Roberto Formigoni è questo presidente abusivo che governa, hai voi, la Lombardia e poi dopo l'iniziativa Milano si muove, per cui verso le 15.000 firme per i referendum. Ma prima di tutto questo io vorrei chiederti come va a Milano e cosa si racconta in associazione, come vi state preparando l'appuntamento congressuale che inizia venerdì prossimo a Chianciano. Allora, guarda, come una situazione appunto, come abbiamo detto, siamo impegnati su questi due grossi fronti che sono questioni di firme, le firme false di Formigoni, le firme minere che stiamo raccogliendo noi per questa proposta recelendaria di questo comitato che è Milano si muove. Noi ci prepareremo al congresso con una pre-congressuale con la presenza di Bruno e Milano, martedì nella sede dell'associazione Rantana Senza Chissa di Milano, via Borsieria 12, quindi martedì alle 20.30 per chi vuole, per i milanesi o comunque i non milanesi che sono in visita da Milano e sono nella nostra città, se vogliono via Borsieria 12 ci sarà questa pre-congressuale con Bruno e Milano. Questo è sicuramente molto interessante e le riunioni pre-congressuali sono un po' il sale dell'attività e il sapore che poi dopo viene portato ai congressi, ai nostri congressi. Guarda, io parto un po' con la prima domanda. Il Presidente Formigoni, penso che sia il Presidente Formigoni che sia arrivato, ecco noi lo accogliamo veramente con un sorriso, il Presidente dovrebbe un po' guardare la tua faccia in questo momento che io sto guardando, che descrive già tutto senza parole. Allora, questo Presidente abusivo a capo di una ragione, raccontaci un po' come stanno andando le cose. Beh, guarda, noi diciamo che la lotta l'abbiamo cominciata fin da subito, fin dal giorno della consegna delle firme, noi abbiamo presentato anche un esposto per l'incandidabilità di Formigoni in quanto si lanciava verso l'impegno Formigoni in Lombardia. Quindi non abbiamo presentato contestualmente al deposito delle nostre firme nessun esposto per chiedere appunto l'incandidabilità di Formigoni. Il giorno dopo, quando sono state dichiarate le ammissioni e le non-ammissioni alle liste, con la richiesta di accesso agli atti che abbiamo fatto e che abbiamo ottenuto direttamente, lì nel Tribunale, nel difficile dove avevano appena controllato le firme, le persone preposte dal Tribunale per fare questa operazione, i nostri volontari e le persone che sono andate a controllare le firme si sono subito accorti che queste firme erano più o meno molto simili, quindi che molto probabilmente ci poteva essere dietro la stessa mano su molte di queste. Ci siamo accorti che molte delle firme erano state prese prima che fosse chiuso il listino Formigoni che è stato presentato in pompa magna alla Stapa, quindi le notizie di stampa erano chiarissime sulla data di chiusura del listino, c'è stata una cena ad acore per definire le posizioni sul listino, quindi tutte cose che dalla stampa erano assolutamente note e da lì sono partite subito le nostre denunce, quindi con Lorenzo Di Parini che era il rappresentante della lista e la denuncia di Marco Cappato che era appunto il nostro candidato governatore. Quindi fin da subito, fin dai primissimi giorni diciamo che la nostra lotta è stata abbastanza agguerrita su questa questione. Purtroppo ci siamo trovati davanti un pubblico ministero che ha trovato brutti liberati che ha chiesto l'archiviazione, in prima istanza ha chiesto l'archiviazione del nostro posto perché non si poteva basare su atti notori, sulle notizie della stampa la chiusura delle listine, quindi praticamente aveva chiesto l'archiviazione. Francesco, gli ultimi sviluppi con Marco Cappato ha portato a degli eco sulla stampa e forse finalmente anche la stampa nazionale, ho visto uscito qualcosa su Repubblica proprio ieri anche nei giorni scorsi. Tu come pensi che questa situazione si evolverà? La continuazione è un lavoro che è stato fatto da allora, nel senso che dopo quell'accesso agli atti che avevamo avuto lo stesso giorno della ricezione degli esiti sulla missione o non a missione delle liste, a noi non era stato più concesso di accedere alle liste, quindi a controllare quelle liste depositate. Mentre PD e PDL avevano relativamente le firme dell'avversario fotocopiate delle tassaforti, noi non avevamo nessuno fotocopio di queste firme per farle controllare e solo qualche settimana fa è stato dato l'ok al nostro iscritto di poter avere accesso agli atti, quindi di poter rientrare in possesso di quelle firme facendo le fotocopie. da lì è nata poi la perizia calligrafica che abbiamo fatto fare da un perito che è anche il perito denominato alla Tribuna Nace, quindi comunque che ha una certa importanza e da lì è venuto fuori appunto tutto questo caso che voi avete detto ieri sulla stampa su Repubblica nella parte nazionale ma che già da un paio di settimane sulla parte cittadina di Milano e Repubblica viene comunque tirata in ballo anche perché Repubblica ha fatto l'inchiesta, ha fatto delle telefonate a persone che sono venute firmatari della lista dell'estimo dei formigoni e ha verificato che cadevano dalla nuova. e ha detto che non ha mai voluto e mai pensato e mai firmato per la candidatura dell'estimo dei formigoni. quindi anche questo dossier di Repubblica ci dà un attimo quello che è il campanello dell'armi su queste firme fasi. Francesco, in città si comincia a parlare di questa situazione, tu hai avuto modo di testare il polso di cosa dice la gente a Milano? allora purtroppo sembra che la gente sia almeno anestetizzata da queste cose non riesca a capire qual è l'effettivo problema e la gravità della rappresentazione di queste firme fasi. quindi sembra che la gente le diceva comunque le elezioni, quello che d'altronde diceva anche lui, cioè le elezioni che le avrebbe evite comunque. noi non stiamo protestando il fatto che lui abbia il nostro potere e abbia sicuramente la maggioranza assoluta delle cittadini, ma noi contestiamo solamente il fatto che la sua presentazione è stata viziata da delle illegalità e delle illegalità che sono per noi fondamentali, quindi si parla di reati penal, si parla di reati amministrativi e quindi chiediamo che le persone che hanno commesso questi atti, visto che non si parla di pochissime persone, si parla di 400, l'ultimo conto che è stato fatto dalla perita con delle stime al ribasso da un 473 firme fasi, mi sembra più o meno con... ovviamente sono notate al basso. perdonami se ti interrompo, però c'è anche un altro concetto che secondo me andrebbe sviscerato e che andrebbe anche analizzato. Allora, noi qui abbiamo un presidente che non poteva non sapere come le firme sono state raccolte e quindi qui il concetto è Formigoni si deve dimettere perché ha mentito. Poi c'è anche un altro aspetto importante. Formigoni può anche dire che lui è legittimato dal voto popolare. A me però da cittadino sorge sempre il dubbio. Se hanno falsificato anche una sola firma, che cosa avviene nelle stanze del Pirellone? Cioè, Formigoni anche se è legittimato dal voto popolare e con questo giustifica le firme false, negli atti amministrativi regionali che cos'altro si può giustificare? Questo penso che sia anche un argomento importante da sviscerare e da discutere. Beh, quello è stato sviscerato anche quello in modo chiarissimo con la conferenza stampa di Cappato, subito dopo il palito del corso della lista del Grillo per il terzo mandato di Formigoni. Come abbiamo visto, il giudice era una signora che aveva avuto a che fare con Formigoni in quanto gestiva un'associazione cattolica legata appunto alla comunione dell'interazione. Quindi anche lì si vede che è chiarissimo che in età con le DCL in Lombardia ormai arrivano assolutamente dappertutto. Quindi su quello non ci sono dubbi di che cosa si riesce a fare nelle stanze dei Gottoni in Lombardia. E' anche vero come dicevi tu e come notizia di oggi che appunto, se nemmeno così grave la questione delle firme, Formigoni non potevano sapere e non può a questo punto, diciamo, sicuri che lui dal primo giorno non abbia detto la verità, tutta la verità, perché se questi sono i numeri delle firme fasi, lui non potevano sapere, quindi di dire che noi avevamo messo le sue firme, che rimane radicali, avevamo manipolato i modi, eccetera, sicuramente era una cosa di cui dovranno rispondere, ma soprattutto era una cosa di cui dovranno rispondere anche i suoi elettori, la della sua capacità nel dare la colpa a persone che hanno solamente fatto il lavoro, che ripetiamo dovrebbe essere fatto da personale del Tribunale, pagato apposta nella macchina elettorale, nel controllo delle firme, cosa che non è stata fatta, l'hanno fatta da dei cittadini radicali, che sono andati a spulciare una firma dopo l'altra. Francesco, guarda, il tempo... Sì, sono anche di Penanati, non ci siamo solo fermati sulle liste di Formigoni, il problema, come avevamo già detto a marzo, è che Penanati aveva presentato molti più firme e quindi anche togliendo quelle che sembravano false, eccetera, rimaneva comunque sopra la soglia di mani di presentazione. Ho capito. Francesco, guarda, tu come tutti gli altri in collegamento in questa serata e questa ripresa della trasmissione TV Radicale ci sta dicendo cose assolutamente interessanti, anzi interessantissime, e quando gli argomenti sono interessanti, il tempo scivola via che è una bellezza e ci sono rimasti nove, ma facciamo anche 12-13 minuti a disposizione. Anche se questo poi mi dà anche l'occasione per dirti che adesso le trasmissioni TV Radicale, noi ci stiamo riorganizzando, ci siamo riorganizzati, riprenderanno con una certa regolarità e quindi sono sicuro che tu darai la tua disponibilità per ulteriori collegamenti e quindi per dare anche una continuità agli spettatori di TV Radicale, per dare una continuità a queste news che giungono dall'associazione Che Guidi e che giungono dalla Lombardia. Io se tu sei d'accordo passerei al secondo argomento perché è anche molto importante e vorrei chiederti sull'iniziativa Milano si muove, le firme si fanno? Come sta andando questa raccolta? Ecco, diciamo che siamo anche qui molto molto ottimisti, nel senso che dopo questi mesi weekend in cui siamo stati graziati dal tempo che veniva la pioggia fin dalla mattina e invece fortunatamente è arrivata solo nel tardo pomeriggio, dagli ultimi cacoli che stanno ancora facendo in queste ore dovremmo aver superato le 14.000. ricordiamo che... Questa è una notizia fantastica! ...la prima è stata solo 15.000 e abbiamo tempo fino al 6 novembre, quindi siamo molto fiduciosi di riuscire a chiudere questa campagna ferendaria per la città di Milano e riuscire a consegnare il 5 e il 6 novembre queste oltre 15.000 firme a Comune per chiedere il 5 e il 6 novembre che il Comitato Milano si muove si è impegnato a scrivere, presentare, richiedere e raccogliere il firme. Francesco, ti va di raccontarci un po' in sintesi su che cosa avvertono queste raccolte di firme referendarie? quali sono gli argomenti che verranno poi dopo messi al voto dei cittadini dal Comune di Milano? Sì, i 5 quesiti referendari sono 5 ma potrebbero tranquillamente essere 1 e praticamente è la rivoluzione di una città, la rivoluzione verde e sostenibile per una mobilità sostenibile di una città. Noi chiediamo appunto che venga estesa dall'area Ecopass, che tutte le macchine e non solo quelle più vecchie, quindi con i livelli inferiori al lavoro 3, paghino il ticket di accesso, ma che tutte le macchine paghino il ticket di accesso. Chiediamo che con quei soldi vengano costruiti 30 km di piste ciclabili in città, chiediamo che vengano piantati 10.000 labere all'anno fino al 2015 e vengano creati dei corridoi verdi tra i parchi cittadini, chiediamo che vengano potenziati i metri di trasporto pubblico, chiediamo che venga potenziato anche l'orario dei metri di trasporto e che vengano modificati in base alle esigenze della cittadinanza le linee di trasporto, quindi anche quella creazione di autobus di quartiere e di diversi metodi di trasporto che attualmente non sono presenti nella città. Poi chiediamo che la zona Expo, che dovrebbe raccogliere la flora dei 5 continenti, non venga alla fine del 2015 rasa al suolo per fare spazio a dei grattacieli con appartamenti di busso come si vorrebbe fare, ma che quella zona venga conservata a bioparco e che quindi venga dato alla città di Milano questo enorme parco, il regalo che viene attenuto dopo l'Expo e che sia una cosa che rimanga dall'Expo per la città e per i milanesi e non solo per chi ci vorrebbe andare ad abitare. E poi chiediamo che venga fatto uno studio di fattibilità e riapertura dei navigli che sono i canali di Milano, che ormai sono stati chiusi per la maggior parte, rimangono aperti solo alcuni canali, alcuni tratti dei canali di città e ricordiamo che nel mavolino il weekend scorso, che era proprio in Dazna, che era il porto di Milano, per rinunciare il degrado in cui è stato lasciato questo porto, che attualmente è addirittura senza l'acqua, e quindi i navigli sono bloccati e sono chiusi, la dazza non ha mai più acqua e poi è diventata una discarica sull'aperto. Guarda Francesco, il comitato, da quante e quale associazioni è formato e le impressioni delle persone che vengono a tavolo, cosa vi raccontano? Allora, le associazioni sono veramente tante, ci sono l'ambiente, WWF, Fai, Caglia Nostra, i Verdi, Radicali, diciamo che i promotori, tre inviatori di questa campagna dell'Italia, sono il Cappato, sono Croci, che è l'ex assessore della lista Moratti, che è stato cacciato dal comune di Milano, che è inviatore di Ecopass, e poi c'è Federini, che è un consigliere comunale legato ai Verdi. E la gente che firma ai tavoli cosa verrà? Ah, scusa, ti ho interrotto, scusami. Ci sono comunque vari esponenti politici locali che hanno aderito a questa raccolta firme, vogliamo ricordare i quattro candidati alle primarie per le comunarie del PD, vogliamo ricordare il presidente del consiglio comunale, Fede Palmini, vogliamo ricordare Pagliallini, ma varie personalità, sia locali che nazionali, che comunque hanno legato la città di Milano, ci hanno aiutato sia per quanto è arrivata alla raccolta firme, sia per la promozione di questa campagna referendaria. Le persone che sono riuscite nei tavoli, prevalentemente, sono persone che hanno capito primo, che questi referendum partono dalla società civile e che quindi non sono altro che richieste dell'associazionismo alla città. E secondo, hanno capito che questo referendum comunale con un 40% può essere un modo per rinunciare la politica in mano ai cittadini, quindi far sì che i cittadini ritornino ad essere protagonisti di quella che è la vita politica dell'euro comune. Quello che ci stai dicendo è che a queste condizioni si può ritornare in una città importante come Milano a fare politica vera, la politica che coinvolge molte persone, quella politica che non è soltanto cantata al chiuso del palazzo, è sempre con i soliti noti. E questo ho dato un'interpretazione giusta? Sì, assolutamente, nel senso che molti si avvicinano a noi e magari non condividono tutti i presenti referendari, ma apprezzano comunque il fatto che qualcuno stia provando a cambiare dal basso quelle che sono le scelte del comune. Sceggio del comune che in questi ultimi anni, con quest'ultimo sindaco, si sono rivelati praticamente fallimentali sotto quasi tutti i punti di vista. Quindi ricordiamo che noi in quest'ultimo anno abbiamo visto chiudere quartieri con coprifuoco, ci sono cinque quartieri di Milano che hanno una linea di coprifuoco, dove i miei negozi devono chiudere entro me la notte, non ci può essere nessun fondsender aperto dopo le 11 di sera, cioè sono sicuramente quartieri dove questa linea di previdizionismo del nostro sindaco non fa altro che aumentare le difficoltà dei cittadini anesti e lasciare lo spazio alla piccola criminalità che comunque con i negozi chiusi, con l'immagente per strada può benissimo fare quello che vuole. Capito, bene, tu ci vuoi ancora raccontare qualche altra cosa? Abbiamo ancora un paio di minuti a disposizione, ci vuoi raccontare qualche altra cosa della vita associativa, dell'associazione Enzo Tortora, cioè è una delle associazioni anche non solo più attive ma anche più importanti e anche più numerose in Italia, quindi che cosa bolle in pentola per il prossimo futuro? Ben, guarda, noi il 21 di novembre avremo la nostra assemblea dell'associazione, quindi io ti posso dire quello che abbiamo fatto in quest'anno che si sta per chiudere con la segreteria e noi abbiamo fatto l'unica occasione che abbiamo avuto per come voglia dei cittadini nell'attività aracali, in quella che è l'attività appunto di aracali italiani, è stata proprio venerdì sera, l'altra sera, in occasione dell'anniversario di Cucchi abbiamo fatto un corteo dal museo delle torture al carcere di San Vittore, quindi questi luoghi non sono stati scelti a caso ma ricordando appunto l'appello per l'unione a stati agraria di Marco, nella sua parola della fame, abbiamo deciso appunto di legare l'useo delle torture al carcere di San Vittore, ricordiamo che c'è stato anche uno dei 55 suicidi quest'anno nelle carceri italiane e quindi abbiamo voluto fare questo corteo chiedendo appunto, lanciando poi un messaggio legato dei palloncini, chiedendo all'adesione, all'appello di Marco per appunto delle carcere di Cucchi di Minitore e per la verità sulla guerra in Iraq. La verità sulla guerra in Iraq è che noi abbiamo chiesto proprio in occasione della visita di Blair qui a Milano dove abbiamo appunto presidiato la sede Rai dalle 16 alle 20, quindi anche su quello siamo stati in contemporanea a Roma a fare questa manifestazione. Per quanto riguarda invece le attività dell'associazione abbiamo un gruppo carcere che lavora benissimo e ha fatto anche delle visite preparatorie per il carcere. In Lombardia siamo riusciti a visitare tutte le carcere lombarde in occasione di essere in carcere. Abbiamo in programma alcuni weekend di informazioni sessuali davanti alle scuole, quindi con la distribuzione di preservativi e la distribuzione di un volantone preparato da noi sul metodo di atti concezionali e di atti concezionali di emergenza. Questo perché a Milano abbiamo un tasso appunto di seropositività superiore alla media nazionale e abbiamo dei casi di sifili molto altri soprattutto tra i giovani studenti, quindi l'idea è quella di avvicinarsi ai giovani per ricordare che la prevenzione è il primo strumento su cui operando. Bene, Francesco, cosa dirti? Oltre che veramente un ringraziamento per questa tua presenza stasera qui, avremo tante altre occasioni in futuro. Come dicevo prima, il tempo purtroppo è tiranno e siamo arrivati al termine di questo collegamento, ce ne saranno tanti altri e noi avremo modo di vederci su a Chiangiano, beh, giù a Chiangiano per quanto riguarda noi, esatto, e noi di TV Radicale saremo presenti, adesso io non ti anticipo nulla e anticipiamo, non anticipiamo nulla neanche agli ascoltatori, ma al congresso TV Radicale ci sarà, ma ci sarà, ecco, prima ho anticipato qualcosina, adesso ne do un altro pezzettino, e TV Radicale al congresso di Chiangiano sarà presente, sarà presente con un format veramente innovativo, non saremo lì per scimmiottare chiaramente esperienze di organi di informazione che hanno la vera professionalità, noi siamo dei simpatici dilettanti con, come posso dire, con la passione e la buona volontà di fare informazione da far circolare soprattutto anche, da far circolare in ambito radicale, ma soprattutto all'esterno, e quindi abbiamo pensato e stiamo creando questo nuovo format che forzeremo al congresso di radicali italiani, per cui avremo modo di incontrarci lì, e con questo io ti abbraccio e ti saluto caramente, e a presto risentirci quindi. Assolutamente, allora ci vediamo, noi ci vediamo al congresso, mentre agli ascoltatori, se volete, domani sera, in via Marchesi, detta da Dei, a 10, la sede dell'associazione sottolta radicale di Caminano, ci sarà una serata con gli amici dell'Urlo a Milano, che ci parleranno della loro giornata dell'Urlo al Battezzo, che si chiama che è appunto domani 25 ottobre, e invece, per chi volesse, l'26 martedì siamo tutti nella sede dell'associazione radicale sottolta fissa di Mora, in via Marchesi era a 10, per la pre-congressuale con Bruno Melano, quindi se volete raggiungeteci domani o dopo domani. Benissimo, appuntamento importante, grazie di nuovo Francesco, a presto risentirci. Ciao, a presto. Ecco, riprendo la linea su TV Radicale pienamente, ringrazio davvero Francesco Poire da Milano, che ci ha informato su queste importantissime iniziative, la raccolta firme dei referendum, e quindi Milano si muove, così come abbiamo discusso della situazione del Presidente della Lombardia, Presidente abusivo, per la nota vicenda delle firme false. Adesso io riorganizzo qui un po' lo studio, penso di non mandare lo spot, perché non credo sia necessario, devo soltanto verificare che ci sia un audio decente per chi ci sta ascoltando, e credo che ci sia comunque...